Stiamo trasmettendo in diretta per fare un po' di fluid stamattina, un bel risveglio muscolare. Oh, siamo pronti! Sì, stiamo andando. Io sono stata molto, come si chiama, indafferata con la televisione l'altro giorno e questo mi ha fatto sì che ero un po', come si può dire, ieri ero un po' stanca. Allora, torno poco poco più su. Ok, siamo pronti. Andiamo a fare un po' di fluid. Vi chiedo, fluid è, cioè, movimenti calistenici per le donne. Perché? Allora, il calistenico maschile è fatto per la parte superiore del corpo. L'uomo è fatto a V, la donna è fatto ad A. L'uomo ha tante spalle, poco fianchi, sono stretti di fianchi, lunghi delle gambe. La donna è pesante di fianchi, perché dobbiamo fare i bambini, e siamo un po' meno forti sulla braccia, perché un uomo ovviamente ha più massa magra di una donna. Così, quando una donna, ok, mettiamo le mani su, cominciamo a fare stelline con le mani, quando una donna prova di fare il calistenico, il rischio, il rischio, ok, non è detto che non puoi fare il calistenico, seguimi il discorso, il rischio è, provi di farlo troppo velocemente, senza condizionare il corpo, e ti infiammi i gomiti, le spalle, a un certo punto ti devi dissistermi semplicemente perché ti sei fatta male, o infiammato, ok. Quando andiamo a fare i fluid è utilizzando il peso del corpo per scendere giù, per aiutarti a potenziare tutta la parte superiore del corpo, abdome e quant'altro. Scendiamo giù, divarichiamo le ginocchia in Child's Pose e andiamo a strecciare le braccia in avanti, testa in giù, senti le spalle, proprio senti le spalle che mentre provi di scendere con il petto contro il pavimento, le spalle si allungano, farò un fluid molto alla portata di tutti perché ovviamente anche il fluid è un'progressione, perché qual è? Tornati indietro, per favore, chiudi le ginocchia, porti le braccia su, apri le braccia e poi porti le braccia giù, porti le braccia su, apri le braccia, le spalle indietro e porti giù. L'altro problema sono i polsi, ok, i polsi che spesso e volentieri ci danno fastidio, quando dobbiamo fare anche movimenti semplici, no, semplicemente tenerci in plank, però non vi spaventate, il corpo risponde sempre e il corpo ti risponderà anche con il fluid, portiamoci in avanti e qui sollevamo le mani, uno, e scendo, sollevo proprio il polso applicando un po' di pressione sulle dita, ovviamente dipende dal tuo livello, non dobbiamo esagerare, e andiamo in modo fluido a cercare un risveglio muscolare. Ancora per quattro. Oggi, qui sotto di me, ti presento la mia amatissima food spring, ok? Abbiamo clear way, clear way sono, diciamo, amminoacidi e proteine da bere quando vogliamo dare un sostegno muscolare, ok, tiro su, la sarcopenia è una perdita muscolare con gli anni, quando entri anche in menopausa, ancora peggio mi sento, perché cominciate a sentire che il muscolo non è tonico, non è pieno come era quando eravamo ventenne. Allora, amminoacidi in questo caso sono un valido aiuto, ok, su, scendo giù, man mano che cominciamo a invecchiare, le proteine devono aumentare. Se tu vai a ascoltare Walter Longo, Veronesi, loro sono molto propensi di mangiare poco proteine, tante verdure, fino a una certa età, e poi dopo una certa età, spesso e volentieri da 50, 60 in su, dicono di aggiungere le proteine per aiutarci con proprio la consistenza dei muscoli, e per questo abbiamo food spring. Inspiro su, scendo giù a metà strada, ovviamente se le gambe non mi permettono di fare le piego, e porto il busto in avanti, fianco e indietro, e provo di portare i cocci verso l'alto per sentire l'allungamento indietro le cosce. Scendo giù, piego, affinché è necessario, estendo le gambe, piego le gambe, stiamo semplicemente andando oggi a fare un fluo di riscaldamento. Se io mi riscaldo la mattina, che quando ci svegliamo la mattina, il corpo ha dormito, speriamo, per otto ore, è stato a letto per otto ore, ed è rigido, e quando io allungo il corpo e riscaldo il corpo, porto le gambe indietro, ecco dove i polsi saranno sentiti, ok? Ecco, qui mettete un po' di peso sulle mani, piego le ginocchia, porto i piedi in su, e scendiamo fino in terra in tre, in due, in uno, relax, mini cobra, non troppo alto, guarda in avanti. E quando siamo freddi, rigidi, anche il tuo pensiero è freddo e rigido, ok? Aiutiamoci in ginocchio per venire su, piego le gambe, punto i piedi, sollevole anche, spingo indietro, andiamo looking dog, sollevole gambe a destra, porto il ginocchio al petto, e lo vorrei che vi portassi le gambe in avanti, ma molto probabilmente la prima volta, non verrà fino qua, verrà più o meno all'attezza del metà strada, prendo la mano destra, aiuto il piede a avanzare, e poggio il ginocchio sinistro, ok? Così, secondo noi siamo caldi la mattina, cercando spazio in tutto, le spalle, schiena, gambe, anche, c'è tantissime memorie che vengono applicate nelle anche, apro le braccia, stendo indietro, sollevo i punti dei piedi destra, inspiro, e inspiro, allungo, prima volta calma, inspiro, e quando andiamo a cercare lo stretching, non è mai, il dolore, è sempre un invito al corpo, dice, buongiorno corpo, non ti vuoi, diciamo, aprire, allungare, porto in avanti, stendo la gamba indietro, ok? E alzo il braccio destra, su, guarda su, respiro su, mano giù, torno, in plank, plank può essere, ok? Adesso con le ginocchia piegate, ho le ginocchia, ho le braccia tese, e scendiamo, tre, due, uno, se le ginocchia stanno qua, sono così, spingo contro il pavimento, stacco i piedi, torno indietro, downward walking dog, spingo giù, sollevo la sinistra, su, lo porto in avanti, e l'appoggio dove il mio piede vuole andare, e se non riesce ad arrivare in avanti, mi aiuto con la mano, braccio in su, apri le spalle, e, clavicola è proprio in su, e scendo giù, e scendo giù, e spingo in avanti con le anche, e torno giù, e spingo in avanti con le anche, braccio scendono, stendo la gamba, inspiro, e giù, inspiro, e giù, mi lasso le spalle, e inspiro, e mi inspiro giù, vengo in avanti sul piede, stacco la destra, ricordate anche che, il subconscio risiede nei muscoli, la questione, veramente biochimica, tensioni, vengono, e memorie vengono, maganizzate nelle, nei muscoli, non nella testa, ma c'è anche nella testa, però fisicamente nei muscoli, e giù con la mano, indietro, decidete voi, se scendere giù, con le gambe tese o no, scendo 3, 2, 1, inspiro in su, allontanando il pavimento da me, se quello è troppo, potessi lasciare i piedi giù, e rimanere in cobra, tiro indietro, spingo indietro, e cammino indietro con le mani, vado indietro con le mani, così, le cose belle di Fluid, è che quando ti svegli la mattina, lascia testa, proprio pesante, rilassati, la testa, allungo il collo, la schiena, è la forza di gravità, che comincia, a fare il suo lavoro, proprio a sciogliermi, mi scioglie, dopodiché andiamo a fare passo dall'orso, con le gambe tese, e camminiamo, passo dall'orso, andando in avanti, fino alla parte frontale, del nostro tappeto, sentendo, apertura, punto le dita, guardo in avanti, e spiro in giù, e spiro in su, abdominali tesi, e centrale, cominciate a sentire quanto siete, quanto state svegliandovi, adesso andiamo a fare un side, proprio un side stretch, la mano destra che prende il polso sinistra, sollevo, e vado verso la destra, la mia destra, per voi sembra la sinistra, spingendo su il piede sinistro, quando faccio fluid, chiamo il mio lato, chiamo la mia gamba, semplicemente, perché quando sono perpendicolare con il video, è modo migliore, cambiamo, mano destra su, agguanto la sinistra, tiro lateralmente, guardo sotto l'ascella, torno su, apro e scendo, 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 guardo in avanti, porto le gambe indietro, petto in avanti, scendo, 3, 2, 1, inspiro in su, cominciate a sentire come tutto diventa, sempre più sciolto, e sempre più forte, sollevo la gamba destra, lo porto al, gomito, destro, dopodiché, faccio una torsione, questo è un po' più avanzato, però, fluid è, alla ricerca, del, dell'allenamento, del potenziamento, mano sinistra scende, e la gamba destra viene in avanti, aiutati con i piedi, con le mani, scusami, se è necessario, apro il braccio su, e porto, mi porto giù con le gambe, e su, su, mi vengo in avanti, e su, queste volte, quando vengo in su, stacco il piede, e scivolano avanti, anche se il ginocchio va sopra, e tracca, i piedi vanno bene, trattieri per 4, per 3, per 2, mani giù, torno indietro, apro la destra, occhio, adesso guardate, che facciamo, andiamo a lavorare, sul lato, mignolo, del piede, entrambi, i miei piedi, stanno facendo una torsione, e, apro l'anca, apro la gamba destra, dentro l'anca, sento, il lavoro, è una posizione, spesso e volentieri, che porta, tante sensazioni, così non esageriamo, torniamo in centro, portiamo la gamba destra indietro, se necessario, piegate le gambe, scendo fino a terra, stendo la gamba, stacco da terra, eccoci qua, ovviamente se siete a un diverso livello, di quello che sto insegnando, modificate per voi, quando si sai online, ci sono due differenze, nessuno ti vede, così tu puoi cominciare, puoi sbuffare, porta la gamba, alla vostra tricipita sinistra, puoi sbuffare, diciamo, ma che sei matta, ma chi me l'ha fatto fare, ma fallo, perché solo facendolo, passiamo sotto, solo facendolo, noi siamo in grado, di crescere, compressione, genocchio su, stringi, usi, vedi, e cresci, porta la gamba sinistra in avanti, se stava qua dietro, mi aiuto, mi porto su, e le braccia vengono su, clavicole si aprono, mini backhand, non andare troppo indietro, con il collo, ok? Apro le braccia, scendo con le gambe, e torno in su, il tallone rimane ancora a terra, torno in su, vado, torno indietro, occhio, vado, questa volta, scivono in avanti, staccando il tallone, portandomi più in avanti possibile, sono proprio appoggiato sulle gambe, per quattro, per tre, per due, mani giù, torno indietro, destra sotto, sinistra sopra, un respiro, movimento, fluid non è soltanto 5 minuti, è un po' di più, poi, occhio, andiamo a fare la torsione, ok? Apro verso l'atto di mignolo, di entrambe le gambe, apro dentro, lanka, senti il lavoro, senti l'apertura, torno giù, porta le gambe indietro, scende di ginocchia, scende di busto, troviamoci tutto in questa posizione qua, tutti, taloni giù, corcio la presa, qui, sollevo la destra, lo porto destra sotto di me, e mi siedo, così sono seduta giù, scendiamo, in quattro, in tre, in due, and uno, gambe su, braccio indietro la testa, tap giù, per un po' di abdominali, tap giù, tap, tap, abdominali tesi, questo è eccellente, anche per chi ha disastesi, controllo l'abdome, la tengo dentro, continuiamo a lavorare, ricordate ragazzi, la palestra, è fondamentale, divertente, ti spingi il triplo, perché c'hai altre persone, che ti stanno guardando, c'hai insegnanti che ti possono correggere in tempo reale, ma, non vai in palestra tutti i giorni, così, per i giorni che non vai in palestra, ok, fai qualcosa, fai dieci minuti al giorno, ecco perché abbiamo, la mia palestra online, perché ti aiuta a riempire, i momenti dove non potresti fare altro, perché non puoi uscire di casa, perché non c'è tempo, ok, chiudi, scendo, chiudi, scendo, chiudi, scendo ancora, la facciamo, altre quattro, altre tre, altre due, and stop, giù, portate i fianchi su, spalle sotto, neanche, non girare il collo, ispira, scendi giù, portate i ginocchi, semplicemente da una parte, non è troppo, non troppo poco, se scrocchi la schiena, fa parte del giocchio, anzi, è positivo, chiamiamo dall'altra parte, e stop, vi ringrazio per la vostra attenzione oggi, per il vostro allenamento, ragazzi, ricordati che hai un corpo, un singolo corpo, che è il corpo, dove risiede il tuo potere, le tue scelte, la tua felicità, e io sono convinta, che quando ci alleniamo, diventiamo più consapevoli, di quello che siamo, quello che vogliamo, e come ottenerlo, e ci sentiamo forti, e ci proteggiamo, e ci difendiamo, per questo, mi invito a, inizi, parti, provi, yes I can, la vita è una figata, facciamo tutto quello che è possibile, di amarci, poi il resto, è semplicemente, sono ciliegine sulla torta, ok, la felicità risiede, dentro di noi, non fuori di noi, non ci sarà mai, un essere umano, che ti deve la felicità, o un lavoro, che ti deve la felicità, la felicità è mio, e poi mi aiuta a vivere, tutte le situazioni, che affronto, durante l'arco della giornata, diversamente, se, sto bene, dove sto, ok, buongiorno dalla Jill, vi voglio bene, passate una giornata figatosa, ciao a tutti,